Sono due anni che parliamo di aree del progetto Uomo Biosfera e quindi il progetto Mab. Faccio però una premessa collegandomi a quanto il direttore ha detto. La Valle Camonica è stato il primo sito UNESCO con le incisioni rupestri. È una valle estremamente ricca, culturalmente parlando vorrei dire che abbiamo persino troppo, perché dalla preistoria arriviamo all'epoca romana, medievale e via dicendo. È bello conoscere la propria valle, è molto difficile farla conoscere. Siamo attivi da un punto di vista turistico, si è dato vita a una DMO perché la promo commercializzazione della valle deve essere affidata ad altri e non all'ente pubblico. Però questo non era sufficiente. E a questo punto, permettetemi, io chiamo in causa il direttore Dario Furlanetto, perché queste idee che mettono in movimento la comunità montana e tutta la valle sono idee che nascono da lui, anche perché veniva da un'esperienza al Parco del Ticino, se non vado errata, che è stato riconosciuto area MAB. E un riconoscimento di questo tipo vuol dire allineare il nostro territorio a livello internazionale. Sono 660-670 le aree riconosciute, 14-15 le aree italiane e se non riuscissimo come Valle Camonica ad avere questo riconoscimento, voi capite che sarebbe un fiore all'occhiello straordinario. Quando abbiamo cominciato due anni fa a parlare di area MAB, che coinvolge i 40 comuni della Valle Camonica, ma anche i comuni viciniori che fanno parte della comunità montana geografica, diciamo non politica, quindi Collovere, Costo Volpino, Orogno, eccetera, parlando con queste amministrazioni, abbiamo ritenuto opportuno e mi pare che sia un concetto fondamentale da trasmettere, che parlare di ambiente, per le parole chiave in fondo del MAB sono uomo, ambiente, biodiversità, sostenibilità. Parlare di questo non vuol dire parlare di regole, di vincoli, di chiusure, ma vuol dire parlare di opportunità, di conoscenza. Il rapporto dell'uomo con l'ambiente è ormai allo studio da più campi, è indispensabile avere la consapevolezza di un uomo che vive nel suo ambiente. E la biodiversità e la sostenibilità, insomma, è l'obiettivo che ci dobbiamo porre. E lo facciamo studiando l'ambiente, ma non in modo fine a se stesso, perché si studia sì la zona della Valle Camonica che può essere caratterizzata da questi aspetti. Le zone circostanti, peraltro ricordo che il 60% della Valle Camonica è area protetta, già ora riconosciuta come tale. Ma in fondo questi studi aprono la via al futuro. E quindi quando parliamo di futuro, parliamo in fondo delle opportunità anche di lavoro e di valorizzazione per i nostri giovani. Se quindi questi progetti li leggiamo in questo modo, capiamo che è importante essere tutti uniti, naturalmente come unione geografica, ma come unione politica, perché solo in questo modo potremo raggiungere gli obiettivi che ci siamo fissati. Diceva il direttore, giustamente, noi abbiamo cominciato a parlare di questo progetto nel 2016. Abbiamo già superato alcuni esami, percorso non è stato facile, però li abbiamo superati e siamo arrivati al termine. Manca l'ultimo riconoscimento, che io mi auguro davvero possa essere positivo, perché il lavoro del parco, del direttore e di tutto il suo staff, è stato un lavoro estremamente intenso. E siccome il direttore conclude la sua collaborazione con la comunità montana, perché va in una immeritata precoce pensione, adesso a settembre, sarebbe bello che il riconoscimento di questo progetto, che fortemente ha voluto, fosse positivo. Quindi io lo auguro al nostro direttore, ma lo auguro soprattutto alla Valle Camonica.